si vede? oh ma abbiamo un klezzon, ciao klezzon si sente, si vede, no no? si sente, si vede, meraviglioso, gli occhi rossi così mi ricordano Feevel in america ciao ciao klezzon Feevel? cos'era Feevel? ah Feevel! ah, Feevel! ah, scusalo vaffanculo mi sono spaventato per le mie mani davvero perché ho saltato ma quelle sono le tue mani, sono bianche e mostruose che paura ciao, le cagate molto la chat si, la leggiamo la chat no, vabbè, eravamo colti da tanta bellezza, klezzon adesso avrai, avrò occhi solo per te, klezzon, te lo prometto no, no, adesso cominciamo, perché eravamo presi a cercare il gioco, ragazzi eh, si, si se scrivete vi leggiamo, tranquillo si, si non vedo l'ora di vedere il prossimo uomo maiale che mi strigono ma, ma è veramente così buio o sono io che sono cieco? è fottutamente buio è buissimo è il gioco più buio che abbiamo visto oh, però devo dire che col... stete potendo ascoltare anche l'audio me lo sto godendo di più si, almeno ci dobbiamo cagliare addosso, ci dobbiamo addosso in due mamma mia buio e spark buio e spark, veramente? cazzo, tu dovevi sentire l'audio con quei tizi lì de... aiiiiiii anche se mi sa che l'hai sentito lo stesso lo se... guarda, ho sentito un suono di forme mostruose e non ho capito cosa fosse, ti posso garantire però ho sentito che c'era qualcosa che stava arrivando e che non andava shrapnel mike buonasera ciao mike musica quindi questo... questo è l'audio del gioco e questo è l'audio della tua voce ok ma... mancano delle texture qua o cosa? non ho idea di cosa abbia voluto fare pollo intanto in live sta... sta andando lento, mi sa che devo vedere le opzioni abbassate è vero? è vero è vero un pochino sta andando a bello eh sempre qua si è vero ah bello eh oh ma no guarda lo zombie e perchè lo zombie fa il rumore della risacca del mare? quanto ti sto divertendo che senti l'audio mamma mia mamma mia! sono proprio felice lo sto gustando guarda oddio giorno ma poi cos'è? ma sei tu quello? si sono io ma è cazzo è portal si ma poi guarda guarda com'è com'è bello pompato il protagonista ma appunto sei sei palestratissimo e sforzo di legno cazzo ciao 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 ma davvero sono cosa? ah ma questo è il simil zombie bello il letto quello che ho appena visto ma noi non siamo persone siamo robot sono un cazzo di manichino gli stiamo anche rompendo un po' i coglioni lei poverina voleva riposare niente ha fatto giorno ancora visto che hanno rimosso il modello appena cazzo di gare ma va che gare se se ma ca... ma... non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere Grazie a tutti.